In questa realtà, tutto cambia, velocemente, imprevedibilmente. Una costante trasformazione che determina una scelta. Gestire la complessità del presente per anticipare le sfide del futuro. Da anni rispondiamo a questa necessità. Forniamo professionisti, progettiamo soluzioni, offriamo consulenza avanzata. Nelle nostre learning communities, i saperi si incontrano e crescono in un terreno comune, tra discipline diverse. Nel nostro network nascono le idee, si realizzano progetti e insieme si raggiungono risultati importanti. Qui, nelle alte scuole dell'Università Cattolica, lavoriamo per ampliare gli orizzonti e proporre progetti innovativi. Per noi, fare impresa significa anche impegno civile. Operiamo nel mercato globale grazie a una rete di relazioni con aziende, pubbliche amministrazioni e organizzazioni in tutto il mondo. Incoraggiamo l'imprenditorialità basata sullo sviluppo sostenibile. Ci avvaliamo di grandi esperti per costruire responsabilità sociale di impresa. La profonda conoscenza delle dinamiche politiche, economiche e sociali ci rappresenta come attori autorevoli nel panorama internazionale. Forniamo strumenti per una lettura critica degli scenari mondiali e delle grandi trasformazioni della globalizzazione. Perché una chiara vision del mondo che cambia è essenziale per chi opera in contesti internazionali complessi e a elevata instabilità. Reputiamo lo sviluppo sostenibile una comune responsabilità verso il pianeta e l'umanità intera. Crediamo nell'ecologia integrale e che il mondo in cui viviamo sia un dono che debba essere salvaguardato e condiviso. Affrontiamo le crisi ambientali, educando le coscienze e le comunità a uno stile di vita etico. La qualità alimentare e la salute dell'ambiente sono le nostre priorità. Promuoviamo una cultura menageriale del settore agri-food per garantire efficacia ed efficienza ai processi produttivi, gestionali e organizzativi. Crediamo che l'alleanza tra natura e cultura possa essere insegnata e integrata nel tessuto sociale ed economico, locale e globale. Crediamo nella trasparenza e nella legalità concreta. Innoviamo la ricerca in campo giuridico, dialogando con la pubblica amministrazione e la magistratura. Il nostro impegno è far crescere la cultura del confronto e della mediazione come responsabilità collettiva. Il nostro obiettivo è diffondere e promuovere una giustizia che trovi le parole giuste per affrontare e risolvere i problemi. Per noi, la psicologia è al servizio dei problemi reali. Rispondiamo alle esigenze di aiuto e sostegno alla persona. Costruiamo punti tra l'università e il mondo delle professioni, con la ricerca applicata e l'attività di rinomati esperti. Favoriamo l'efficace gestione delle risorse umane. Sosteniamo manager coinvolti nei processi di decision-making e intelligence aziendale. Il nostro approccio alla salute fonde economia e medicina in un'unica realtà, al servizio della persona. Studiamo nuovi modelli per favorire equità nell'accesso alle cure. Qualifichiamo risorse per garantire sostenibilità economica ai servizi per la salute. La comunicazione è il campo in cui si affrontano le principali sfide della contemporaneità. Lavoriamo per il mondo dei media, per i suoi bisogni, le sue tendenze, le sue trasformazioni. Attraverso la tecnologia divulghiamo arte, stimoliamo creatività, produciamo cultura. Forniamo professionisti nei settori strategici della comunicazione e dello spettacolo. L'esperienza universitaria ci dà forza per operare nel tessuto sociale. Lavoriamo in partnership con le imprese per creare valore, il valore delle idee. La qualità della ricerca e della formazione avanzata diventano un bene comune. Con sguardo sempre nuovo facciamo del cambiamento la nostra missione. Del futuro la nostra responsabilità. Alte scuole. Università Cattolica del Sacro Cuore.